5 auto ridotte in cenere, altre 3 seriamente danneggiate, uno scenario da attacco terroristico, quello che si sono trovati di fronte i vigili del fuoco ed i carabinieri intervenuti a Papaglionti, piccola frazione di Zungri, nel Vibonese, centro famoso per gli insediamenti rupestri risalenti al Medioevo e per il vecchio paese Fantasma, ormai da tempo disabitato. Fantasma come l'autore del blitz incendiario, una sagoma incappucciata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza che il proprietario delle vetture, rivenditori di auto usate, aveva fatto installare sulle pareti della sua abitazione, di fronte alle quali le macchine si trovavano parcheggiate. Una chiara intimidazione sulla cui matrice cercano di far luce i militari dell'arma, che si va ad aggiungere allo stilicidio di atti criminali ai danni di imprenditori e commercianti, quotidianamente fatti oggetto di attenzioni da parte della criminalità organizzata. Una piega messa in atto con modalità sempre più sfrontate ed eclatanti, in un territorio ancora troppo restio a denunciare e sempre più rassegnato a soccombere. Da Zungri per la CNews24